Davide Testa, autore del terzo gol con il quale la Mazzarese ha vinto contro il Don Carlo Misilmeri, una partita importante. Ecco, al di là del gesto tecnico, davvero insomma bello perché questo tiro a giro che è finito all'incrocio dei pali, ma è stata una Mazzarese che ha giocato con una grande voglia, giocate semplici ma efficaci, e avete messo subito sotto l'avversario fin dall'inizio, insomma una vittoria importante che vi proiettava davvero in zona in corsa per i play-off. Sì, hai detto bene, volevamo questa vittoria già da martedì, dal primo giorno di allenamento che ci siamo riuniti, l'abbiamo ottenuta, abbiamo fatto una grandissima prestazione e dalla prestazione arriva il risultato come sempre. Ecco, raccontiamo il tuo gol perché è stato un gol molto bello che avranno modo di vedere i telespettatori, tu hai agganciato il pallone, ti sei girato, hai portato la palla sul destro e hai fatto partire questa parabola. Ecco, in quel momento cosa hai pensato quando hai agganciato quel pallone? Pensavi davvero di fare quella giocata o ci hai pensato dopo? No, appena mi sono liberato ho visto un po' di spazio, ho cercato subito il tiro, poi la palla si è infilata sotto l'incrocio e sono stato anche fortunato. Sono contento del gol perché dopo quattro mesi, ti ripeto, non è facile trovare la condizione, piano piano ci sto riuscendo con il lavoro, con l'impegno e grazie allo staff e ai miei compagni sto trovando la migliore condizione. Bene, e adesso il mister sarà contento e continuate questa vostra corsa verso i play-off. Sì, abbiamo raggiunto il primo obiettivo che era la salvezza in casa del corso, ora giustamente puntiamo i play-off. Siamo consapevoli che ci possiamo arrivare e ce la giochiamo con tutti fino alla fine.